Ci mette il piede e conquista il pallone. La difesa deve interpretare quest'azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo. Tenta di calciare! Mario! Che fare? Trovano il pari all'ultimo respiro, grande entusiasmo dei tifosi. Non si è tirato indietro malgrado la distanza e ha trovato un gran gol. Gli è capitata un'occasione. Attenzione al tiro. Autogol! Ma cosa fa? E non va troppo per il sottile. Casiglia. Spazio. Toni Kroos decide di battere corto. Cristiano Ronaldo. Buon Cristiano Ronaldo!